il video il video guardatelo si deve perdere a Red Bull perdi a Red Bull e ora buttala qua nel nostro cestino è un casino arriva da tutti i cartoni non li mi sparto per 2 minuti ah dove beva biretta bisogna avvicinamento bisogna avvicinamento ti rispondi per il quarto no 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 hai sbagliato dopo devi sentire sbagliami mi butta una bruglia vai lì Marcale sentate devi andare ad attacco si le patate non è va bene non è non è non è non è non è sono ma è non è è non è esito lei stai 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 la quinta a 9 minuti l'ipad parla l'ipad parla il vento il vento si può il vento il vento è la prima è il vento l'ipad del vento un pochino E' un altro tipo! Ma sia coltito! Coltito uno! Pianco e sinistro! Vabbè, stia! è destra? libero 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 l'est vizio con vizio io per questo libero libero il bambino colpito a suaveto a suaveto a suaveto a suaveto ma poi come si fa? trovate